In ogni città ci sono dei monumenti, dei luoghi che, oltre che essere parte integrante della storia di questa città, ne diventano sostanzialmente dei rappresentanti, quasi per antonomasia. Si associa il nome di questo luogo al nome della città. Pensiamo al Colosseo di Roma, al Duomo di Milano o, per rimanere più vicino a noi, al Ponte Gerevole di Taranto. Anche Grottaglie, come tante altre città, ha uno di questi monumenti. E' il Castello Episcopio, un monumento con 700 anni di storia che però forse non tutti conoscono fino in fondo. Scopriamoli insieme allora. Grottaglie, storia e territorio, cronaca, personaggi, aneddoti e vicende della città, delle ceramiche e delle ugo. Un tempo soggetto prediletto per le cartoline postali illustrate che i turisti spedivano agli amici dal luogo delle vacanze, da secoli segno tangibile del potere temporale esercitato dagli arcivescovi di Taranto sul popolo di Grottaglie, il Castello Episcopio si affaccia sulla gravina di San Giorgio, nella zona sud-orientale del quartiere in cui hanno sede la maggior parte delle storiche botteghe figuine e fu realizzato per volere dell'arcivescovo Giacomo Datri, che esercitò il suo mandato pastorale negli anni che vanno dal 1354 al 1381, quando il 15 luglio fu trucidato da mani gnote per motivi forse passionali o forse politici, ancora oggi rimasti oscuri. Per dotarsi di una residenza all'altezza del suo rango, e probabilmente per motivi eminentemente pratici, Giacomo Datri fortificò la residenza episcopale trasformandola in un imponente castello, che venne affiancato, a scopo difensivo, da una cinta muraria che delimitava il centro abitato ed era dotata di quattro porte, due delle quali ancora oggi ben visibili. A differenza di altre costruzioni fortificate, non si tratta di un edificio costruito ex novo, ma quasi certamente il castello venne realizzato a partire dall'ampiamento di una masseria fortificata, simile a molte altre esistenti in quel periodo nelle campagne pugliesi. Il castello episcopio si presenta oggi come una costruzione maestosa e imponente, con una superficie complessiva di oltre 6.000 m2 ed un'altesta massima, riferita alla torre maestra, di oltre 28 m, ma i numerosi lavori di modifica e adattamenti, in base al variare delle esigenze degli occupanti, rendono molto difficile stabilire con certezza la cronologia delle diverse fasi costruttive. Non è quindi possibile fissare una data precisa di costruzione, come invece si può fare con la chiesa matrice, grazie ad un'iscrizione posta sulla sua facciata, altro edificio la cui costruzione grottaglie deve allo stesso arcivescovo Giacomo D'Atri, ma ci si deve limitare ad individuare, sulla base delle testimonianze storiche oggi disponibili, purtroppo carenti e spesso contraddittorie, dei momenti in cui individuare un prima e un dopo. Quindi, se da una parte abbiamo uno storico locale come il Pignatelli, che indica nella fine del 1200 il periodo in cui Grottaglie venne fortificata, dall'altra abbiamo Monsignor Giuseppe Blandamura, che sulla base delle testimonianze documentarie indica nel 1388 l'anno di realizzazione della cinta muraria, posticipando quindi la realizzazione della struttura difensiva di quasi due secoli. Il limite opposto è fissato invece da un altro documento, che ci conferma che nel 1406 il castello di Grottaglie era già stato costruito, poiché risultava occupato da Ottino De Caris detto il Malacarne. Inoltre, un altro documento, riportato dal già citato Blandamura, evidenzia che in data 5 marzo 1483 il cardinale arcivescovo Giovanni d'Aragona, al fine di poter effettuare le necessarie riparazioni alle fortificazioni di Grottaglie, proibì che una certa quantità di calce fosse trasportata a Taranta per analoghi lavori. Come detto, dallo studio dei rilievi appare abbastanza probabile che una prima cinta fortificata, identificabile con quella che chiude il cortile meridionale, a cui era forse aggiunta una seconda torre di cortina poi andata distrutta, esistesse già nel 1433. Lo fanno ipotizzare alcune tracce di una porta in uno stile che richiama il gotico, presenti nel muro che divide i due cortili. L'esistenza di una tale porta potrebbe anche giustificare la localizzazione della torre maestra e tutto il sistema degli accessi ai livelli superiori della stessa, che doveva servire anche per quella parte del primo piano del fabbricato principale, corrispondente alla zona della sala episcopale. Una prima configurazione del castello all'inizio del 1400 era quindi probabilmente costituita dalla citata cinta muraria, dalla torre maestra interna, dalle sale del primo piano destinata a dimora dell'arcivescovo e da due torre di cortina, rispettivamente a sud-est e sud-ovest. Nella seconda metà del secolo, probabilmente verso il 1483, a cui risalgono i lavori commissionati dall'arcivescovo Giovanni d'Aragona, la prima configurazione subì un ampliamento, con la realizzazione del cortile occidentale e di una ulteriore torre di cortina, oggi distrutta, al tempo posta a difesa della porta di accesso al centro abitato, attualmente trasformata in fornice aperto. Rimanendo nel campo delle ipotesi sufficientemente plausibili, possiamo affermare che il 14 febbraio 1580, quando Monsignor Lelio Brancaccio consacrò la chiesa madre, anche il castello fosse stato già realizzato nelle sue parti principali, seppure ancora abbastanza limitato nel suo sviluppo. Altri lavori di ampliamento e modifiche ai locali furono eseguiti tra il 1613 e il 1617 dal cardinale Bonifazio Caetani, che, anche a causa delle diminuite esigenze difensive, accentuò il carattere aristocratico della residenza, edificando altre stanze al piano nobile e soprattutto realizzando il grande giardino esterno, che venne dotato di recinzione e ingresso monumentale. È in questo periodo che probabilmente viene realizzato il portale d'ingresso al castello che ammiriamo ancora oggi. Localizzato sul lato ovest, è composto da due pilastri imbugnato terminanti con dei semicapitelli, su cui si imposta un arco a tutto sesto, anch'esso imbugnato. Al piano superiore, il cosiddetto piano nobile, fu realizzato un complesso di ben 11 stanze allineate longitudinalmente, tra le quali spicca un grande salone centrale, la cosiddetta galleria. Alle stanze, molto ampie e maestose, corrispondono in facciata altrettante finestre riquadrate da un cordone, coronate da fregi con decorazioni avvolute. La teoria di finestre al piano elevato e il portale bugnato della stessa fase che monumentalizza l'ingresso, ridefiniscono la facciata del castello secondo lo stile barocco tipico dei palazzi nobili del XVII secolo. Ancora altri lavori furono commissionati nel 1649 da Monsignor Tommaso Caracciolo ed il castello si ingrandisce, aumentando la recettività senza alterare l'impianto generale difensivo del complesso. Si procede nel miglioramento degli ambienti esistenti e nella realizzazione di alcune nuove strutture, quali il loggiato interno dell'episcopio, collegato all'atrio da uno scalone oggi non più esistente, che terminava con una loggia voltata a crociera, un tempo affrescata, che si estendeva per l'intera lunghezza dell'edificio, fungendo da diaframma tra il cortile ed il piano nobile. Venne realizzata anche una cappella di piccole dimensioni, evidentemente per uso privato, con un altare in pietra dipinto e pareti a volta decorate con affreschi in stile barocco. Vengono inoltre realizzati alcuni locali di disimpegno per le stanze esistenti e nuovi ambienti destinati a funzioni di servizio da foresteria, oltre che alloggi per il personale. Dalle testimonianze documentali, risulta che buona parte di questi ambienti si aprivano su una veranda prospicente il grande portile e quindi dovevano essere localizzati lungo il corpo di fabbrica che delimitava il giardino ad ovest. Nel 1753, sulle volte delle stanze della galleria del piano nobile, furono fatti eseguire degli affreschi dall'arcivescovo Antonio Sersale, con l'obiettivo di rendere sempre più marcato l'aspetto aristocratico del palazzo, con l'inserimento di stemmi nobiliari e personaggi illustri. Il successore di Sensale, l'arcivescovo Giuseppe Capocelatro, trasformò la galleria in una cappella coperta da un soffitto a cassettoni con lo stemma della famiglia Morrone, dalla quale egli stesso discendeva. Nel Novecento vengono poi eseguiti ulteriori lavori che condurranno alla configurazione attuale. Viene riempito ed innalzato il cortile nord-occidentale e realizzata l'intercapedine necessaria a dare luce ai locali interni già presenti al piano terreno, che prima dei lavori si affacciavano al piano terreno. Si procede inoltre alla costruzione di altri corpi di fabbrica aggiunti al piano terra e primo piano, nonché ai lavori di adattamento e modifica delle sale interne per adeguarle alle nuove destinazioni d'uso. In particolare, le vecchie stalle ubicate nel fabbricato sud-orientale ospitano oggi le sale del Museo della Ceramica. L'aspetto che oggi il Castello Episcopio è quindi frutto di secoli di modifiche e adattamenti, d'altronde il passare da masseria a fortezza militare, da residenza nobiliare a fabbrica di scarpe, solo per citare alcuna delle distanzioni d'uso che lo hanno caratterizzato negli anni, non è certo un gioco da ragazzi. Visto dall'alto, il Castello presenta una pianta trapezionale che si sviluppa in senso nord-ovest-sud-est, con base ed ingresso sul lato occidentale. Il fabbricato principale è sul lato di sud-ovest del perimetro, con una cinta muraria sugli altri lati. Ci sono poi due cortili e una grande torre maestra che li divide, con un'ulteriore torre di cortina a base pentagonale che si affaccia sul quartiere delle ceramiche, costruita nel punto di unione tra mura e fabbricato principale. Il corpo di fabbrica principale costituiva la effettiva residenza episcopale e si sviluppa su due piani con un parziale terzo livello. La torre interna invece presenta quattro piani oltre il lastrico, tutti indipendenti tra loro e un tempo collegati con l'esterno mediante un sistema di scale esterne attualmente distrutto. Il settore a nord-ovest è invece quello più recente, edificato solo sul lato ovest ed occupato per la maggior parte della sua estensione da un vasto cortile giardino interno, collegato tramite scalinata al corpo di fabbrica, fatto realizzare nel XVII secolo dal cardinale Bonifacio Caetani, ed è limitato da mure realizzate in età contemporanea, in cui, sino a pochi anni fa, venivano esposte le opere in ceramica partecipanti alla mostra concorso estiva. La torre maestra ha una pianta rettangolare, è localizzata sul versante settentrionale delle mure del castello ed è parte integrante delle fortificazioni edificate nel XIV secolo. Con i suoi 28 metri coronati da 20 merli sulla parte superiore, si tratta della parte più alta del complesso edilizio e si alza per tre piani, con quell'inferiore che è il più alto. Il lato ovest, rivolto verso l'ingresso del castello, presenta quattro aperture regolari, su cui una presenta ancora l'originaria forma di feritoia. Il lato sud, che si affaccia sul cortile interno, era originariamente provvisto di tre caditoie, funzionali alla difesa piombante, attuata facendo cadere sul nemico assediante frecce, liquido, infiammabili o bollenti, materiali solidi, come l'aterizio pietro. Di tali apprestamenti ne rimane integro solo uno, mentre gli altri, danneggiati in epoca non precisata, rimangono solo delle mensole. Un'altra caditoia è presente sul lato oeste, mentre sul lato nord si apre una finestra. Una nota a parte merita il giardino intitolato all'arcivesco Giacomo Datri, a cui, come detto, si deve l'edificazione del nucleo originario del castello di Grottaglia, che è localizzato nelle adiacenze del lato occidentale del castello stesso e si estende per circa mille metri quadrati su un unico livello pianeggiante. L'accesso al giardino avviene dalla corte interna al castello, in prossimità della torre maestra, ed un documento della curia episcopale del 1711 ne cita l'esistenza, distinguendolo da quello che occupava il settore nord-occidentale del castello e specificava che era cinto d'ambura. Un documento risalente al XIX secolo lo elenca tra i beni che veniva concessi in fitto dall'episcopio tarantino. Come detto, il giardino assunse la sua forma definitiva nel XVII secolo, durante la trasformazione del castello da struttura militare a residenza aristocratica, voluta da cardinale Bonifacio Caetano. Il giardino è circondato da una recensione con un portale d'accesso decorato da due volute contrapposte ed è attraversato da due viali ortogonali, scanditi da una sequenza di semicolonne su pilastri che reggono un pergolato. Il giardino è sopraelevato rispetto al piano stradale e presenta forma geometrica piuttosto regolare. Al centro dello spazio, pavimentato in cemento, è collogata un'ampia aiuola triangolare, piantumata con alberi ad alto fusto. Lungo parte dei muri perimetrali corrono aiuole sopraelevate, delimitate da un parapetto in pietra. Completano il giardino diverse fioriere ed alcune strutture che negli anni passati supportavano le teche espositive delle opere presentate in concorso nella mostra della ceramica mediterranea che si svolgeva in estate. A causa della sua particolare collocazione, il giardino presenta diverse scalinate. Una prima scalinata in pietra che parte dalla corte interna del castello consente l'accesso al giardino ed è protetta da un parapetto in tufo di recente costruzione. Una seconda scalinata in pietra consente l'accesso dal giardino ai vani superiore del castello, mentre una terza scalinata nascosta alla vista da un parapetto in muratura scende fino a un vicolo del quartiere delle ceramiche. L'accesso normalmente chiuso da un cancello veniva utilizzato solo in occasione delle manifestazioni culturali stili. Un'ulteriore scaletta scende fino ad un camminamento inferiore lungo il muro meridionale del castello che segna su quel versante il confine del giardino. Un'ultima scaletta costruita alla fine degli anni 90 scende fino ad un camminamento nell'angolo sud-est del giardino dove è collocato un vano chiuso con indicazione dell'uscita d'emergenza. In omaggio alla sua natura recreativa il giardino ospitava numerose specie arboree tra le quali limone abete palma arancio e canfaro oltre i carbusti come oleandro bosso ficodindi e cactus non mancavano diverse piante rampicanti tra cui le quasi onnipresente buganville e una manistosa edera che ricopriva gran parte della facciata della torre maestra prospicente il giardino. Ecco questi sono alcuni dei dati storici e architettonici del castello episcopio di Grottaglio in molti li conosciamo praticamente tutti difficile davvero non aver notato la torre maestra i più giovani forse non hanno mai visto invece il giardino dedicato a Giacomo D'Atri che da diversi anni ormai è chiuso al pubblico così come è chiuso al pubblico sono le sale del piano nobile del castello e con i suoi affreschi speriamo che presto queste sale e tutto il castello possa ritornare fruibile e intanto occupiamoci di mantenerne viva la memoria la storia e la cronaca spero che questo podcast vi sia piaciuto vi abbia come dire stimolato qualche curiosità in più io intanto vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento alla nostra prossima chiacchierata ciao grottagli grottagli storia e territorio è un podcast di grottagli in rete prodotto dall'agenzia di comunicazione gire grafica i testi sono curati da carlo capri hanno collaborato in redazione marianna da iacquanietro e cosimo linoce coordinamento editoriale felice buon frate potete inviare un'email con commenti proposte e osservazioni a info chiocciola grottagli in rete punto it grazie grazie